Luca De Carlo, sindaco di Calalzo, un paesino delle Dolomiti Bellunesi, dall'anno scorso ha intrapreso un'iniziativa interessante. Ogni domenica c'è la passeggiata con il sindaco, da luglio ad agosto. I turisti della zona si ritrovano nel paesino di Erizios, poco sopra il centro di Calalzo, e da qui faranno una breve passeggiata di un'oretta con il sindaco, che spiegherà le bellezze del luogo e che cosa è possibile fare anche durante la settimana. Come è venuta questa idea e quanto successo sta riscuotendo? L'idea è venuta perché molte volte mi capita di sentire dei turisti che dicono che non sanno cosa c'è a Calalzo. Abbiamo un vuoto grandissimo che è quello relativo alle guide turistiche, e quindi per non far perdere ai turisti la possibilità di vedere le nostre zone, dobbiamo metterci in prima persona. Io lo faccio volentierissimo, mi diverto anche. Gli do appuntamento tutte le domeniche di luglio ad agosto alle 10 in Piazzetta, a Erizios. Sono contentissimo del successo, ma anche l'anno scorso, quest'anno ancora di più. L'ultima domenica scorsa c'erano 80 persone, vengono volentieri, imparano cosa c'è a Erizios e cosa c'è a Calalzo e cosa fare soprattutto anche nei giorni che poi rimangono qui in vacanza per tutta la settimana e alla fine facciamo una merenda tutti assieme con dei dolci, anche del buon vino e del salame che ci offrono i commercianti dei paesi qui vicino, per cui noi siamo assolutamente soddisfatti di questa iniziativa. Cosa si può fare effettivamente a Calalzo durante la settimana nel periodo estivo per un turista? Beh insomma, al di là dell'ambiente che è da visitare è veramente eccezionale perché abbiamo due zone come quella della Valdotte o come quella di Lagole che sono assolutamente impareggiabili. Lagole è un santuario venetico, visitarlo è un dovere per chi viene nelle Dolomiti, il patrimonio dell'umanità, per questo è la nostra ferma volontà di promuoverlo anche mettendoci in prima persona. Visitare Erizios è una di queste tappe, la Valdotte nei suoi rifugi è un'altra tappa doverosa, poi ci sono tutti i musei che ci sono intorno a Calalzo, penso al Museo del Cidolo, quello della Latteria e il Museo archeologico di Pieve di Cadore che raccoglie tutti i nostri reperti appunto archeologici della zona di Lagole, pertanto uno riesce a non stufarsi. La sera poi c'è sempre un intrattenimento nuovo, festa di veneti antichi, festa popolare, le stempore adesso di pittura grazie agli amici dell'associazione Dolomiti Domani con questa rassegna che si chiama Belunart, quindi un agosto e un luglio ricchi di avvenimenti. Quindi l'appuntamento è per domenica 29 luglio nella piazza di Erizios con il sindaco De Carlo. Certo, vi aspetto.